Questo è il Monte Amiata, è un monte con 1.400, scarsi 1.500 metri d'altezza qui in Toscana. E erano otto mesi che non lo visitavo, che non mi godevo questo panorama, otto mesi, lunghi otto mesi. E piacevolmente colpita, se non fossi complottista potrei dire che la contaminazione aerea è arrivata anche qui. Mi sono dovuta barcavenare tra la miriade di insetti nell'aria all'altezza di 1.300-1.400 metri e il disposcamento che non c'era otto mesi fa non era a questi livelli. Potrei dire che è tutto vero, ma sicuramente sarà un caso. Chi mi reputa una vaneggiatrice, una esagerata, sicuramente dirà che non c'entra niente il ricordo che mi porto dietro a aprile 2020 quando nel marasma della convinzione di un virus esistente, mortale una dichiarazione aperta alle televisioni governativa chiariva come ci sarebbe stato un disboscamento nazionale. ed io mi chiedevo in virtù di cosa, perché in questo momento cosa servisse un'azione del genere. E poi la lettura delle gazzette aveva chiarito i miei dubbi. L'applicazione delle antenne 5G. E allora il progetto va avanti anche perché come abbiamo già letto nell'ultima gazzetta misi è dietro, il 6G è dietro l'angolo e quindi ecco per quale motivo si continua con il taglio degli alberi. Alla prossima!